Ciao a tutti ragazzi, sono Gioia e in questo video vi parlerò brevemente, oppure non lo so perché ho appena iniziato a registrare, di come mi sto trovando su Advanced Warfare con il cecchino. Allora, premettendo che ieri, per voi l'altro ieri, è uscito il mio video My First Two Clips for Rush RC, le prime due clip che ho fatto per l'RC di Rush. E molte persone mi hanno fatto notare che hanno scritto, ma Gioia ma da quando sei feeder? Perché ho fatto due clip ovviamente di feed, due clip sniper. E mi sembrava di avervelo detto, in realtà no, non ve l'ho detto. Allora, su Advanced Warfare io sto giocando veramente poco, praticamente niente per farti il shot perché, secondo me, se non hai una buona connessione e non hai il culo assurdo, non itterai mai nulla su Advanced Warfare. Perché io ho giocato veramente tanto, sia su Tutti Contro Tutti, sia su Cerchia Distruggi, Salvataggio e su Deathmatch. E in tutti i casi non ho mai fatto nulla, né i trick attaccati, hitmarker, across the map, niente, il mio zero. Cioè, arrivo al last, faccio i trick, tutti fighi, milioni di giri, 1800 e tutto, e mai lo becco. Anche se sparo verso di lui, mai. E mi stufa sta cosa, perché se non c'è connessione non itti nulla. E allora, da 4-5 giorni, più o meno, ho iniziato a fare feed. Qua sotto, comunque, vedete una partita su Momentum, su Detroit, un 77-47, ma comunque vi faccio tante clip, vi faccio vedere tante parti tagliate, diciamo, i migliori kill. E mi sembra che ho fatto qualche quad splitti sta partita, penso di sì, spero di sì, ho scelto sta partita perché ho fatto tante uccisioni. E nulla, veramente, sto gioco mi sta piacendo tanto per le feed, perché, non c'è un perché, mi piace e basta, cioè, mi diverto tantissimo a fare le feed. Come state vedendo, mi piace sia farle che farvele vedere, anche editarle, mi diverto tanto, ho fatto il daydage l'altro giorno. Mi diverto tanto editarle feed e penso che, d'ora in avanti, su Advanced Dwarfere esclusivamente, magari in Dando scapperà anche un dreamshot su Advanced Dwarfere in privata. Ma Road to Killcam, FFA, Tickshotting in live, tutte queste cose qua, zero. Penso che adesso inizierò a fare, non degli sniping in live, ma dei semplici video in Facecam in live dove cerco di fare clip, ovviamente con tanti tagli, video di 3-4 minuti, come ad esempio quelli di Face Agony, di tutti gli altri Face del cazzo, anche Jumbo. Tipo, mi è salito il mugo nel naso, anche Jumbo li fa sti video e mi piacciono tanto, quindi se mi piacciono a me, penso che mi piaceranno a tutti voi. E nulla, visto che in avanti io continuerò a fare clip di Advanced Dwarfere solo cecchino, tra un po' uscirà il mio episodio, anche quello sarà ovviamente solo con le feed su Advanced Dwarfere perché mi sta veramente tanto piacendo. Non penso di tornare su Black Ops 2, almeno per ora, perché su Advanced Dwarfere mi trovo veramente bene a far feed. E nulla, mi mancano poche clip per mandare le clip in episodio, spero di riuscire a portarvelo più presto. Ci vediamo venerdì con le FAQ, nonostante io sia strapieno di verifiche in questa settimana. Dunque lasciate un bel mi piace, un bel commentino, ditemi voi cosa ne pensate di questo gioco, che all'inizio ho detto che era assurdo, perché è veramente assurdo per fare i trick, puoi fare tantissime cose, ma il problema è che non si hitta. Come l'ho notato io, l'hanno notato tantissime persone. Nulla, da giove è tutto, lasciate un bel like, un bel commento, tutti in descrizione trovate tutti i link che vi servono, passate dalla pagina Facebook, da giove è tutto, bella. Grazie a tutti.